amici di faner un saluto dalla stella azzurra questo è il quarto turno del girone preliminare della coppa italia della lega calcio a 5 in campo fly brasil e rumilton entrambe a quota 3 nel girone che le vede insieme alla crisis anch'essa a tre punti riposa per questo turno trazione centrale tocco sotto tocco raso terra che supera il numero 51 suriano e si infine in rete dunque vantaggio del rumilton dopo appena due minuti di gioco quando sono passati 5 minuti e mezzo dall'inizio della gara va all'occhia prova a puntare la difesa avversaria va all'occhio sul destro calcia colpisce il palo tocco corto che non riesce interviene vall'occhia tu per tu col portiere avversario non sbaglia ripristina la parità la stella azzurra vall'occhia per il l'1 a 1 del fly brasil vedremo quale sarà la reazione del rumilton al gol subito intanto ancora vall'occhia palla al piede prova ad uscire va fuori mezza di sede avversaria vall'occhia ancora marco vall'occhia due gol in un minuto e fly brasil che si porta avanti in come viene fermato possibilità di ripartenza per il rumilton che si distende nella metà campo avversaria rumilton in avanti e suriano salva il fai brasil si distende il rumilton con l'incursione centrale stoppata da bavaro allora sousa può andare su priorità numerica per il fly brasil sousa sousa fa fuori tutti e va a mettere in rete con estrema facilità tra uno fly brasil assegno anche sousa pallone allargato a destra ma interviene un difensore avversario su priorità numerica per il fly brasil sousa sul destro tocco per un compagno suggerimento dentro per l'inori che col destro la piazza in rete 4 1 fly brasil al ventesimo del primo tempo non è il suo piede ma era estremamente facile da due passi trovare la porta intanto il rumilton in avanti con la conclusione che trova impreparato suriano accorce le distanze il rumilton 4 a 2 suggerimento in verticale intercettato un po di confusione alla fine esce vale al piede il fly brasil si trova ancora in una situazione di superiorità numerica sfera destra per vallocchia che non ci pensa due volte e piazza il destro del 5 a 2 trovando anche la tripletta personale ton fle brasil leggermente sotto tono in questo momento corner battuto dentro ed errore clamoroso a due passi dalla porta attiva ma vallocchia si riprende la sfera prova uscire fermato il 10 allora conclusione con suriano che con l'aiuto del palo riesce a dire di no sbaglia il tocco il 6 allora possibilità per il rumilton bavero prova a metterci una pezza si libera lo spazio per il mancino che colpisce la traversa sfera ancora buona suriano non riesce a bloccarla e dunque 5 a 3 per il col gol del rumilton che accorcia nuovamente le distanze in avvio di ripresa iniziativa che però non va a buon fine a causa dell'intervento di linori che prova a distendersi linori supera due avversari calcia col mancino palla sotto la traversa per il 6 a 3 firmato linori che trova la doppietta personale ripristina subito il distacco di tre reti qui per il rumilton al limite quasi all'area avversaria suggerimento l'indietro e conclusione col destro che trova una deviazione scheggia il palo e termina sul fondo arroccato il fleb brasil rumilton alla disperata ricerca di un gol che potrebbe riaprire la gara sfera sul secondo palo non c'è il tocco vincente a cercare vallocchi anticipato prova a riprendersi la sfera il 10 non ce la fa suriano si oppone sul primo tentativo non può nulla però sul secondo quarto gol del rumilton e 6 a 4 la stella azzurra va a giocare con sousa sousa può puntare il diretto avversario lo fa fuori e calcia straordinario l'intervento dell'estremo difensore del rumilton a mettere in corner il tonino avanti mentre si intensifica la pioggia la stella azzurra pallone in verticale triangolo che si chiude e conclusione che c'entra il palo il mancino potente sulla traversa sfera poi messa in rimessa laterale lino rivede la porta vuota ci prova e trova il gol del 7 a 4 in pieno recupero che chiude definitivamente il gioco e arriva infatti anche il triplice fischio fly brasil batte rumilton 7 a 4 si porta a quota 6 punti in classifica grazie mille grazie mille